fuori salone 2024 benvenuti a time machine seguite il canale allora oggi è una giornata molto speciale perché è il salone del mobile abbiamo avuto un rafflusso incredibile e anche molto merito i qui ospichiamo che adesso vi vado a presentare lo vuole qua diciamo com'è rimaniamo il mistero ancora per un pochino vorrei raccontare semplicemente che perché noi italiani siamo il re del design perché noi italiani siamo considerati il paese con più prospettive del design del mondo semplicemente perché abbiamo avuto una storia incredibile semplicemente perché noi siamo anche se non andiamo imparare le storie dell'arte a scuola abbastanza bene questa è una piccola polemica che non voglio fare però noi italiani siamo frutto di quello che impariamo anche intorno a noi quando vediamo quando vediamo la nostra chiesa quando passeggiamo per strada quando siamo in paesi o in borghi incredibili che vediamo attorno a noi e quindi la nostra storia è quella che porta a noi la conoscenza anche se non la studiamo e la conoscenza è quello che ci porta a spingerci verso il design e il design nuovo proprio perché abbiamo le radici ecco adesso vi presento questo signore qua vicino a me vi presento signor seguso 1397 la tua azienda giusto l'annata famiglia data mille primo documento in isola murano datato 3 maggio 1397 quindi tante generazioni per la rimane insomma lui è la più importante grande vetreria di murano avete capito se uso di che cosa sto parlando se uso vetri d'arte ed è qui con noi in tutto un percorso storico da quello che ha fatto fino alla modernità è un'estrema modernità lo stremo del design una cosa meravigliosa o sbaglio no dice giusto mattia poi qui da te il percorso proprio per cercare di portare un po di passato un po di presente un po di futuro perché l'idea è sempre quella diciamo io dico sempre nella nostra famiglia siamo sempre stati contemporanei eravamo presenti per cento anni fa eravamo contemporanei cento anni fa e cerchiamo di essere contemporanei anche oggi cosa siete 27 generazioni 23 anomeno e questi due per tre più per quattro in prima l'esima generazione dove come dicevi giustamente tu prima noi siamo il frutto delle nostre esperienze di ciò che viviamo di ciò che vediamo quindi ciò a cui siamo esposti ma siamo anche il frutto di chi è stato prima di noi e noi diciamo la famiglia segusa una chiara incarnazione 23 generazioni dove sai che ci sono stati tanti che hanno fatto sofferto costruito inventato ma continuato a rivolverli a progettare e così continuiamo per anche noi oggi questo è un pochino discorso perché l'Italia è costituita da distretti e Murano è chiaramente uno degli distretti più importanti del vetro soffiato e del vetro lavorato e del cristallo lavorato perché perché cominciano nelle grandi aziende che sono sempre più piccole però poi crescono delle aziende e tutto l'indotto che si crea intorno fa sì che ci sia il distretto sbaglio no dice bene Murano è il più antico ancora attivo distretto al mondo ed è straordinario come questa lungimirante idea della Repubblica Serenissima nel 1291 dopo un grande incendio a Venezia che ha rischiato di bruciare la città sposta tutte le piccole tutti i piccoli laboratori da Venezia a Murano è così 1291 la prima data di lascita dell'isola di Murano perché dovete immaginare che allora non è che c'erano come adesso i forni le sicurezze i sindacati tutto questo bello strumento che fastighi alla sicurezza anche se purtroppo gli incidenti ci sono però non lavorano però le fastighi è molto più sicuro il lavoro una volta si lavorava con la paglia in casa di paglia quegli incendi erano veramente a loro veri giorni se diciamo che diciamo il pericolo ovviamente la chiamma il fuoco e i palazzi erano stretti di legno era un altro c'era spalla di quasi un millennio fa non si parla di tantissimo tempo fa oggi le cose sono molto ridesse però il distretto è ancora vivo è un distretto che coniuga gli residenti per lì ci sono più di 5.000 persone che vivono a Murano e questi laboratori queste fornacce che tuttora lavorano non siamo in pochi ma siamo ancora in fronte ecco vedete perché il salone del mobile è molto importante chiaramente molto importante perché vengono tutti i compratori da tutto il mondo ci sono migliaia e migliaia di curiosi è verissimo ma ci sono migliaia e migliaia di compratori Milano cambia faccia è già una città che è proposta a cambiare faccia è già una città che comunque è molto internazionale nonostante sia così piccola Milano veramente è una città incredibile perché è un vantaggio la dimensione delle lotte in questo caso quindi cambia faccia e si sentono parlare tutte le lingue del mondo e anche questo è straordinario racchiusi in 5 giorni che ormai sono quasi 10 però racchiusi in 5 giorni abbiamo un passaggio di migliaia e migliaia di persone tra cui migliaia e migliaia di compratori che non fanno altro che riconoscere il fatto che il design italiano sia il design più importante del mondo e se posso dire l'ultima cosa diciamo perché la missione per noi è quella di far vedere Murano non solo con un oggetto classico antico tradizionale a cui siamo abituati nella nostra cultura generale ma cercare di far vedere Murano con occhi nuovi per questo abbiamo portato i fiori in via Fiori Chiari questa installazione illumina via Fiori Chiari a cielo aperto dove la decomposizione del lampadario veneziano quindi rotto in parti ma non per distruggerlo ma per elevarlo prendendo il singolo elemento dove si trasforma diventa un'installazione e in questo processo di trasformazione dall'interno della casa il lampadario va a finire all'esterno quindi illumina la stessa. Ancora una volta cercare di creare un cortocircuito per cui il vetro di Murano ha una grandissima storia che rispettiamo e che costruiamo con grande affetto e attenzione ma che guardiamo avanti per cercare di l'opera e dare alla Design Retreat un'altra luce al pesciato di Murano. Signori, amici, seguitici su Time Machine, cliccate il canale. Ciao! 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 Ciao!